Ciao a tutti, oggi vi parlo di una trilogia e per chi mi segue su Instagram saprà io sono una fan di Licia Troisi e vi ho già parlato di una sua trilogia e adesso vi parlerò della seconda purtroppo non ho più il malloppo qui ma comunque vi metto poi una foto questa trilogia era stata pubblicata sia in un malloppo unico che conteneva i tre libri sia, diciamo, separati i tre libri erano stati pubblicati separatamente io avevo letto il malloppo unico allora, questa trilogia si intitola Le guerre del mondo emerso ed è ambientato sempre in questo mondo emerso che è al centro delle vicende anche della trilogia delle cronache Le guerre è ambientato 40 anni dopo le cronache e non ci sono più Nihal e Senna come protagonisti ma ci sono Dube e Lorelin Allora, Nihal e Senna avevano sconfitto Aster il loro precedente tiranno e c'è stato un periodo di pace poi, grazie a degli stratagemmi è arrivato al potere un altro tiranno Dube, quando lei è piccola per sbaglio uccide un suo compagno di giochi e viene cacciata dal suo paese inizia a girovagare e un giorno un uomo la aggredisce a quel punto arriva un ragazzo che la salva e diciamo che lei si aggrappa con tutte le sue forze a questo ragazzo che l'ha salvata e decide di seguirlo scoprirà poi che lui è un assassino e che è uscito diciamo che ha disconosciuto la gilda degli assassini la setta di cui faceva parte la gilda degli assassini è una setta di assassini appunto che vogliono riportare alla luce il dio che loro venerano e per farlo devono uccidere tutti i postulanti cioè tutti coloro che non credono in questo dio e che non hanno mai ammazzato i vittoriosi che sono che il nome che si sono dati gli adepti della gilda si come si può dire si servono anche dei cosiddetti bambini della morte come li chiamano loro i bambini della morte sono tutti quei bambini o quei bambini diventati ragazzi che per sbaglio hanno ucciso e li cercano in tutte le terre emerse per farli passare dalla loro parte si scoprirà poi che faceva parte della gilda anche Aster il vecchio tiranno e in realtà però Yessol il capo della gilda venera a Aster e vuole riportarlo in vita insieme al al dio che loro venerano lui l'insegnante di Duben ha fatto parte di questo gruppo e ne è uscito perché si pente di tutti gli omicidi che ha commesso e li insegna però a uccidere anche se lei poi in realtà non ucciderà mai dopo la morte del maestro inizia a fare la ladra per due anni a quel punto però gli viene impresa una maledizione questa maledizione consiste nel fatto che ogni tot di giorni in lei si risveglia una bestia che reclama sangue e lei subisce una vera e propria trasformazione diventando un'orribile bestia molto ospitata e malvagia che compie delle stragi veramente orribili e viene convinta dal capo della gilda che loro hanno l'antidodo e quindi per poter guarire deve entrare a far parte del gruppo ed è proprio alla gilda che conoscerà Lorelin che è un mago messo combattendo per riportare la pace nel mondo emerso i due inizieranno a collaborare perché lui è entrato nella gilda come possulante e non può compiere determinate ricerche queste ricerche le compierà Dube in cambio lui le aiuterà a cercare un antidodo per la sua maledizione una volta usciti iniziano a vagare per cercare di trovare Senna che potrebbe sia salvare il mondo emerso sia aiutare Dube lo trovano e lo riportano nel mondo emerso perché lui con Nial era poi andato a vivere nel mondo ignoto lo riportano nelle terre emerse e dall'inizio la loro battaglia però non aggiungo altro cioè non vi dico se poi alla fine sconfiggono la gilda e quindi il nuovo tiranno oppure no allora mi è piaciuto tantissimo a dir la verità mi sono piaciute di più le cronache però anche le guerre mi sono piaciute tantissimo però anche in questo romanzo si rivede Ido lo gnomo però non mi è piaciuta la cosa allora Nial e Senna erano andate a vivere in questo terra ignote e poi Nial era morta e Senna diciamo che era come morto dentro e non si era più occupato del figlio il figlio gliel'ha diciamo un po' rinfacciato ed è tornato a vivere nelle terre emerse dove si è rifatto una vita si è sposato e ha avuto un figlio poi il figlio di Senna e Nial è morto lui e la moglie sono morti per a mano della Gilda Ido era riuscito a trovare a salvare il nipote di Senna e gli aveva promesso che si sarebbe sempre occupato di lui e che una volta che avessero sconfitto il nuovo tiranno avrebbero formato una nuova famiglia in realtà in realtà poi durante la battaglia finale contro la Gilda Ido muore allora durante la battaglia lui viene ferito gravemente e diciamo che si lascia morire perché credi di non avere più nessun nessun ruolo poi per il futuro no? e quindi si lascia un po' morire e questa cosa non mi è piaciuta perché dopo tutto quello che ha passato dopo tutte le battaglie che ho combattuto e dopo l'ho promessa che gli aveva fatto si lascia morire scusa non ha senso poi Ido era uno dei miei personaggi preferiti quindi no non ha senso come cosa infatti è la cosa che mi è piaciuta di meno del libro perché poi è morto anche il suo drago mi sembra Vesa e no Vesa era già morto comunque perché non mi è piaciuta sta cosa adesso volevo poi leggere il nuovo la nuova trilogia sempre su Nihal che è uscita adesso da poco e vedremo poi cosa com'è comunque credo che sia bella anche quella noi ci vediamo alla prossima un bacione ciao un bacione Grazie a tutti